un'aggiunta al video precedente che mi sono dimenticato allora le cinghie si rompono in questo modo si rompono si usurano ecco si usurano perché magari c'è un momento in cui può rallentare diciamo il giro dell'albero e quindi qui slittano e si mangiano in questo modo ma ad esempio o me non si sono mai rotte completamente ecco poi volendo c'è un tipo di cinghie un pochino più resistente costa un pochino di più io queste qui le ho pagate 10 euro l'uno per come la uso io qui che la uso molto come vi ripeto una stagione ce la faccio con questa cinghie poi inevitabilmente è una delle parti che lavora molto ok ci vediamo i prossimi video per adesso ciao ciao